Buongiorno e benvenuti al dibattito di questa domenica elettorale, domenica di voto in Umbria per 700.000 elettori chiamati a scegliere il nuovo governatore, un voto che è importante anche per la maggioranza giallorossa, che lì per la prima volta è candidata con un proprio uomo, anche se di coalizione e non di partito. Parleremo sicuramente anche di questo, ma questa domenica è caratterizzata dalle notizie che sono arrivate a partire dalle 5 di questa mattina. A proposito, non c'è più l'ora legale, adesso sono le 8 in punto, 8 e un minuto fra qualche istante. Dicevo, prima la notizia di un raid americano sul nord della Siria, subito dopo le prime informazioni fornite da fonti militari americane di un colpo grosso, cioè della possibile e probabile uccisione di Abu Bakr al-Baghdadi, il capo dell'Isis. Bene, poi sono arrivati i particolari che fanno pensare che questa morte che è stata più volte ricordata, annunciata, data per certa, potrebbe essere probabile. I particolari sono che delle teste di cuoio americane sono entrate in un compound appunto nel nord della Siria e un uomo che il Pentagono ritiene possa essere al-Baghdadi si è fatto esplodere per non essere catturato. Con lui sarebbero morte due delle sue mogli. Vi faccio vedere il tweet fatto alle 2.23 ore americana da Donald Trump. Something very big has just happened, cioè qualcosa di molto grande è appena accaduto, e ha annunciato il Presidente degli Stati Uniti una conferenza stampa per le 15 ore italiane. Partiremo da qui anche perché questa notizia si collega a tanti fatti che stanno succedendo proprio nel nord della Siria e nei dintorni di quell'area. Buongiorno Alessandro Sanzoni, il Direttore di Cultura e Identità. Buongiorno ad Alberto Castelvecchi, un aspetto di Public Speaking. Buongiorno a Roberto Arditti, formicche.net. Buongiorno Arditti. Poi a Napoli saluto il Direttore di fanpage.it. Eccolo lì, Francesco Piccinini. Buongiorno. E a Firenze invece c'è Pier Francesco De Robertis, del Quotidiano Nazionale. Buongiorno De Robertis. Arditti, parto da lei che spesso si è interessato anche di politica internazionale. Allora la notizia a questo punto, spendendosi il Presidente degli Stati Uniti dopo tante voci smentite dallo stesso al Baghdadi, parrebbe possibile. È un colpo grossissimo contro il terrorismo oppure ormai l'Isis era nella sua parabola ampiamente discendente? Nella sua, per quello che possiamo valutare naturalmente, nella sua funzione simbolica è un colpo molto grande da parte degli Stati Uniti e dei suoi servizi di intelligence, direi secondo solo alla uccisione di Osama Bin Laden. O modalità analoga direi. O modalità probabilmente molto analoga a quello che sappiamo. E che tra l'altro, modalità che ci ricordano come viviamo ormai definitivamente in tempi di guerra asimmetrica. Cioè le due operazioni che raggiungono Osama Bin Laden e al Baghdadi per quel poco che ne sappiamo, sono tipiche operazioni di intelligence e poi la parte finale è messa in atto da reparti speciali. Intelligence e reparti speciali, i veri protagonisti delle guerre moderne, dove le informazioni e limitati gruppi di personale militare molto specializzato svolgono quasi tutte le operazioni che contano. Abituiamoci a questo e abituiamoci anche al fatto, lo dico soprattutto per la nostra categoria, di smettere di dare valutazioni troppo rapide. Mi spiego, il nord della Siria, interessato dalle operazioni militari turche, da uno scontro con la popolazione e le sue organizzazioni militari kurde, è entrato da qualche settimana in un profondo rivolgimento, anche strategico sul territorio, che probabilmente non è estraneo a questa vicenda. Assolutamente. E quindi questo dovrebbe indurci a valutare scelte come quella di un cambiamento strategico per esempio degli americani più nella parte di annuncio che nella parte... probabilmente legato a cambi di equilibri nella zona che hanno molto di non detto e che poi però ad alcuni risultati arrivano. Perfetto, Sanzioni, lei annuiva, naturalmente adesso uno pensa ai tempi di questa cosa, accade, allora è stato... lo hanno preso forse, se è vero che al Baghdadi, in un compound, quindi in una zona diciamo protetta dove lui era rifugiato. Quindi un'operazione, ci diceva Arditti, di intelligence. Hanno atteso un momento particolare. Dopo gli americani l'operazione avverrebbe, pensare male si fa peccato ma sovente si indovina, accadrebbe quando hanno mollato i kurdi nel nord della Siria e più o meno in quest'area è accaduto l'evento. Fatti collegati? Potrebbero essere? Io credo di sì e potrebbe essere una notizia che ci dà molto ottimismo, lo dà innanzitutto al popolo siriano che vive da otto anni una guerra civile tremenda e drammatica. Dimenticata, perché noi parliamo di altro generalmente, non della guerra. Però è molto importante diciamo come anche strategicamente. Mi permetto di rivendicare che quando Trump ha dato l'annuncio di voler ritirare le truppe dal nord della Siria e quindi mollare l'alleanza con i kurdi e tutti quanti inveivano contro il presidente americano, mi permetto di rivendicare di aver segnalato in qualche trasmissione dove mi trovavo che invece ritenevo che fosse una straordinaria mossa di genio del presidente Trump per avviare finalmente un serio processo di pace in Siria. Nel senso che coloro che più di ogni altro si opponevano a una normalizzazione della situazione dello scenario siriano, in cui oramai Assad aveva definitivamente riconquistato gran parte del territorio, salvo appunto la fascia settentrionale, la fascia kurda, anche perché i kurdi vantavano dei crediti evidentemente proprio nella guerra contro l'Isis rispetto agli Stati Uniti e alle nazioni occidentali, ma rivendicavano anche la possibilità di avere una larghissima autonomia se non addirittura il loro sogno, l'indipendenza, uno stato kurdo che cominciava ad andarsi a formare magari partendo dal nord della Siria. I kurdi proprio si opponevano e in parte si opponeva anche alcuni ambienti del deep state americano che comunque hanno in vario modo agito in Siria negli ultimi otto anni. Ecco, Trump metteva tutti di fronte al fatto compiuto, probabilmente aveva anche coordinato l'operazione con gli altri attori principali, Erdogan da una parte e Russia dall'altra, dando il via libera a Erdogan per la sua invasione, che era la terza invasione, non la prima invasione del nord della Siria che Erdogan compiva, quindi non era una novità assoluta, creava questo effetto a catena che poi ha portato Putin a intervenire a fianco dell'alleato Assad, dell'alleato siriano, ma soprattutto è intervenuto Putin anche in un'opera di mediazione nel gruppo di Astana, sappiamo che fanno parte Iran, Siria e Russia e si è cercato di trovare una corruzione. Un conforto? Come dire, volevo anche segnalare che la giusta simpatia nei confronti della causa del popolo kurdo non deve farci dimenticare una cosa, creare un Kurdistan indipendente sarebbe un detonatore geopolitico tremendo. Vabbè, lì non ne hanno bisogno, non ne hanno bisogno di detonatori. Allora chiudo proprio l'intervento dicendo che è possibile che questo, che è un evento che ha un forte impatto evidentemente mediatico e anche propagandistico per il Presidente Trump, l'eventuale morte di al-Baghdadi, potrebbe segnare un punto definitivo rispetto a un processo che in questa settimana va a concludersi. Quindi una Siria che viene data al governo, che era il governo legittimo, sotto tutela iraniana e russa, con la mediazione nei confronti di Erdogan... Legittimo, ma molto contestato la popolazione. È un governo legittimo nel senso che è una dittatura. Legittimo nel senso del diritto internazionale. Nel senso che è una dittatura. Però una legittimità. Resta una dittatura. Sì, sì, certo. La conforto però perché Newsweek dice che l'operazione contro quella di oggi, contro al-Baghdadi, sarebbe stata decisa una settimana fa. Lo hanno riferito proprio al settimanale, fonti del Pentagono, che hanno parlato di questa operazione scattata sabato con l'uso di elicotteri, quindi ieri con l'uso di elicotteri. Castelvecchi, allarghiamo ancora lo sguardo perché in realtà la morte di al-Baghdadi avviene nella vicenda kurda. Poi abbiamo in zona l'Iraq dove ci sono centinaia di morti per le proteste per il caro vita. C'è il Libano esplosivo, c'è tutto il resto delle situazioni per arrivare fino alla Libia mai pacificata che ci riguarda direttamente. Quindi quell'area è un detonatore sempre innescato. Sì, parto dalla coda, cioè per arrivare alla Libia pacificata dove si sono riposizionati alcuni elementi dell'ISIS. Cioè sostanzialmente nella sua crisi Daesh, nella sua crisi territoriale, ha riposizionato una parte di finanziamenti anche degli attivisti per cercare di rinfocolare appunto una componente libica. E appunto allargando il quadro, come si dice in inglese c'è una situazione di turmoil, cioè di agitazione in tutto il Medio Oriente. Io farei non solo un allargamento il quadro, farei un piccolo passo indietro. Come nasce tutta questa roba? Abu Bakr al-Baghdadi, che non si chiamava così, viene arrestato dagli americani dopo l'accaduta di Baghdad. Gli americani avevano un progetto, un progetto partorito dai predecessori di Obama, quindi dai repubblicani, di gestire il dopoguerra iracheno con una divisione in tre del territorio. Un Kurdistan iracheno, che tutto sommato è un esperimento abbastanza efficiente, perché lì c'è il petrolio, è un protettorato americano. Un centro sunnita e un sud sciita. Una specie di speziazione. Quello che non sono riusciti a risaltare. Ha funzionato tutto questo? Credo che non ci sia bisogno di essere Kissinger per sapere che non ha funzionato. Oggi il sud dell'Iraq, lo vediamo, con un governo che è ritenuto da molti appoggiato dall'Iran, è nella situazione che è 50 morti negli ultimi tre giorni per strada. Il centro sunnita è stato appunto la parte governata dall'Isis fino alla sua coduta. E l'unica cosa che in qualche modo si è retta era il Kurdistan iracheno. Il progetto dei kurdi era quello di fare un grande Kurdistan fuso col Kurdistan siriano, ma è un progetto fallito perché si sono messi di mezzo come vediamo adesso i turchi. Quindi il clima è questo. Non dimentichiamo che i due luogotenenti militari di al-Baghdadi, per la parte siriana e per la parte irachena, erano due generali dell'ex guardia di Saddam, o meglio un capo dei servizi segreti di Saddam e un generale della guardia repubblicana. Perché è importante dire questo? Probabilmente nel famoso mazzo di carte. Nel famoso mazzo di carte. Della distribuzione americana durante la guerra. Plifico un po' la narrativa, ma in qualche modo gli americani avevano fatto delle promesse all'establishment militare iracheno. Noi entriamo a Baghdad senza sparare un colpo e di fatto sono entrati a Baghdad. Sarebbe stata una carneficina prendere Baghdad casa per casa. E poi in qualche modo vi rinsediamo... Seconda guerra del Golfo. Noi vi rinsediamo poi con nomi diversi. Questa pattuizione non ha funzionato. Una parte degli ex squadri militari, quindi anche delle forze speciali di Saddam Hussein, si imbestialiscono, c'è una sorta di rottura interna all'Iraq e vanno a creare l'infrastruttura militare e non dimentichiamola anche, l'infrastruttura di terrorismo informativo, cioè tutte le famose cose che vediamo, le decapitazioni, le tute arancioni dei prigionieri, quei filmati così, sono partoriti da gente che lavorava per al-Baghdadi ma erano ex dell'intelligenza irachena. La domanda che mi faccio, adesso arriviamo a bomba agli eventi di stamattina, una volta che tu hai dicapitato e disarticolato la struttura territoriale, che non esiste più, e hai di fatto colpito il capo politico al-Baghdadi, tutti questi signori in libera uscita che si sono messi tra l'altro un po' di soldi al pizzo perché hanno rapinato banche, hanno fatto di tutto, come si riposizionano? Il problema che abbiamo per tutto il Kurdistan per l'exisis. Napoli, Piccinini, ma noi abbiamo vissuto, convissuto per anni dall'attentato delle Torri Gemelle con il terrorismo, terrorismo che però è declinato in questi anni naturalmente la paura degli attentati per le strade, cioè l'ultima fase del terrorismo dopo gli aerei sulle Torri Gemelle, era questa la paura, le grandi azioni nelle città europee, poi i lupi solitari e adesso quasi più nulla. È la fine con la morte di al-Baghdadi oppure sarà l'araba fenice che risorgerà dalle ceneri? Cosa dobbiamo aspettarci? Perché al-Baghdadi era un simbolo più che altro. Certo, anche se noi abbiamo assistito a un mutamento genetico del terrorismo, come giustamente ha sottolineato, noi siamo trovati davanti a un fenomeno che è prima di tutto un fenomeno identitario. Quando parliamo di lupi solitari, noi ne abbiamo scritto e raccontato varie volte, soprattutto quando negli attentati europei parliamo di persone che definivano attraverso il loro attentato la propria esistenza. Quindi ci siamo trovati davanti a delle persone in cui in realtà completamente scollate dal tessuto sociale o ai margini del tessuto sociale in cui il gesto estremista, il gesto terroristico era una definizione, una vera e propria definizione del sé. Quindi è molto difficile pensare che questo fenomeno sia terminato. È un fenomeno molto complesso, molto difficile da prevenire per certi aspetti ed è soprattutto un fenomeno legato all'emarginazione e all'emarginazione che poi viene cooptata all'interno di fenomeni terroristici. Ma l'emarginazione resta però. È inimmaginabile che questo possa terminare con la morte di al-Baghdadi. Ovviamente anche perché nasceranno sicuramente nuovi simboli e nuovi simboli che prenderanno il suo posto. L'abbiamo visto in passato, abbiamo parlato della morte di Osama Bin Laden, non è che con la morte di Osama Bin Laden è terminata, è terminata quel tipo di cultura. Purtroppo va avanti e purtroppo dobbiamo aspettarci nuovi simboli che verranno. In questo l'Europa dovrebbe fare un passo importante, fare quello che ha sempre cercato di fare, ovvero di integrare queste persone per non lasciarle a margini. conoscevo molto bene, conosco molto bene la dinamica che ha portato agli attentati ad esempio di Parigi e quel gruppo è un gruppo che si unisce proprio perché messo ai margini a un certo punto e intorno a questa emarginazione ha costruito la propria forza. De Robertis, allora come vediamo la roba è veramente tantissima che si muove sempre che sia confermata la morte di Abu Bakr al-Baghdadi. Però se si spende il presidente degli Stati Uniti con quel tweet come dire un po' sbilanciato probabilmente i controlli che sono in corso sul DNA della persona che si è fatta esplodere e delle donne che erano con lui probabilmente lasciano intendere che l'operazione è veramente quella. Sì, credo che da quanto sta accadendo la riflessione che possiamo fare oltre quelle già avanzate dai colleghi è quanto potrà pesare la morte di al-Baghdadi nella futura campagna elettorale per la Casa Bianca. Ormai ci siamo, il 2020 è l'anno elettorale, sappiamo l'importanza di certe operazioni anche a livello simbolico in una campagna elettorale. Trump aveva avuto qualche problema in politica estera. La politica estera non è mai alla fine quella che decide la campagna per la Casa Bianca, però può dare un aiuto. Ci ricordiamo quanto ha pesato la morte, l'eliminazione di Bill Laden nella passata amministrazione. Questa potrebbe essere una carta importante per Trump è da spendere nella corsa alla Casa Bianca, perché gli americani sono molto sensibili a questo tipo di operazione, all'esibizione dello scalpo del nemico catturato e Trump che è un po' in difficoltà sotto alcuni aspetti potrebbe giocarsela. Come dicevi tu, il fatto che si sia speso personalmente fa capire che non solo l'operazione c'è, perché se no non avrebbero, lui stesso non sarebbe così sceso in campo, ma probabilmente anche la loro intenzione dell'amministrazione di investire molto in questa operazione in termini di propagandistice. Però avrà dei guai ulteriori, perché vedo, arriva proprio adesso la notizia mentre parlavi, che c'è stata l'ennesima sparatoria negli Stati Uniti, che questo in realtà è un problema che sta iniziando veramente a pesare anche sull'amministrazione, nonostante i repubblicani siano da sempre dalla parte della vendita libera di armi. Bene, l'ennesima sparatoria è accaduta a Greenville, poco fuori Dallas, in Texas. Il bilancio è sempre quello del primo momento. Due morti e dodici feriti, il che vuol dire che il bilancio potrebbe crescere. Non so ancora di che cosa si tratti, ma questa era la situazione di al-Baghdadi, con tutti i sé che dobbiamo mettere, sicuramente la nostra doverosa apertura. Ci fermiamo un istante e poi torniamo con la politica italiana. 8 e 24. Allora, si vota fino alle 23 di questa sera, subito dopo, anzi qualche istante prima delle 23. Inizierà lo speciale condotto da Enrico Mentana, poi ci saranno i nostri sondaggi per vedere come sarà andata il voto in Umbria e naturalmente è attesissimo. Calcolando che noi non possiamo parlare delle elezioni, Sanzoni, chi potrà vincere o perdere dal risultato? Chi è che rischia di più politicamente? È il Presidente del Consiglio? È il Presidente del Consiglio in questo momento. Poi ci sono Zingaretti e Di Maio che hanno fatto l'alleanza e quindi in qualche maniera si sono esposti. Dall'altra parte c'è Renzi che non è in corsa, quindi per certi versi potrebbe vincere o perdere all'opposto di quello che accade. C'è Salvini che ha necessità di una vittoria perché deve infilare il filotto, come dice lui. Meloni che deve stare sopra Berlusconi. Berlusconi che deve dimostrare. Chi è che perde di più? Secondo me quelli che rischiano di più sono Di Maio da una parte, nel caso in cui ci dovesse essere una riduzione troppo significativa del consenso del Movimento 5 Stelle lui naturalmente corre dei rischi. Ma questo è sempre così. E non a caso lui ha voluto invece Conte accanto a sé negli ultimi giorni di campagna elettorale per coinvolgerlo a pieno titolo. Allardiamo ancora, allardiamo ancora. Il governo, quanto dura? No, 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 le chiedo il governo quanto dura? Perché la prospettiva è, tutti dicono, bisogna arrivare a eleggere il successore di Mattarella. Allora io credo che la legislatura potrebbe abbastanza agevolmente arrivare all'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Che è 2022, giusto? Che è 2022, sì. Il governo per il momento mi sembra abbastanza sereno, al di là del risultato Umbro. Sereno è un aggettivo che non vorrebbero. Che non vorrebbero e perciò glielo diciamo, perché è l'aggettivo più esatto nel senso che non è detto però che duri quanto la legislatura. Quello che possiamo dire è che l'esperimento Umbro è di coalizione elettorale più di 5 stelle. Non è una cosa limitata a questa fase, probabilmente. Probabilmente il governo Conte II ha portato a una chiarificazione del quadro politico che potrebbe anche durare successivamente. Se l'hanno fatto in Umbria e in Emilia Romagna, l'Umbria possono anche perdere i governativi. L'Emilia Romagna no, là è un problema un po' più serio. Però c'è anche da dire, credo che è interessante capire dove si ferma Forza Italia in questa partita Umbra perché, come si diceva prima... Non parliamo però tanto troppo di risultati. Comunque, insomma, il governo per il momento, almeno fino alla primavera prossima, credo che possa continuare abbastanza serenamente ad andare avanti. Dopo bisogna capire Renzi che intenzioni ha. E non solo lui. Piccinini, allarghiamoci ancora. Ieri è arrivato il decreto, finalmente carta scritta, il decreto fiscale. C'è una sostanziale pace con l'Europa sull'economia? Naturalmente è una forma in qualche maniera di tregua armata perché l'Europa deve vigilare i suoi conti. Vigila Paolo Gentiloni sui conti italiani ma Paolo Gentiloni è terzo in questo caso perché naturalmente è l'uomo della Commissione che a dicembre, se ce la faranno a dicembre, entrerà in carica. La manovra è sufficiente? Nel senso che il governo ha avuto pochissimi soldi per fare le cose che voleva fare. Sette miliardi appena, il resto serve a coprire come sempre le famose clausole di salvaguardia. Diciamo che la manovra non è solo povera da un punto di vista economico, ha avuto la difficoltà soprattutto dei tempi di mettere insieme due partiti che fino al giorno prima si sono fatti la guerra e che si sono trovati a governare insieme. La complessità maggiore è una complessità politica prima che economica, è la complessità di mettere insieme due anime che per quanto contigue, molto più contigue di quanto non si possa pensare, avevano una difficoltà a dialogare, hanno avuto una difficoltà a dialogare. Quindi è una manovra di estremo compromesso fatta col bilancino, fatta con pesi o contrappesi e che però non è certamente una manovra che era quella che ci si aspettava, ci si sarebbe aspettato una manovra più espansiva anche grazie al fatto di avere Paolo Gentiloni in quel ruolo. Ma Paolo Gentiloni evidentemente si è trovato nella scomoda posizione di essere il garante italiano in Europa, quindi di dover rispondere anche all'Unione Europea, di non poter sembrare un po' troppo filo italiano, se così si può dire, e quindi probabilmente ha tenuto molto più serrati ranghi di quanto forse non avrebbe potuto. Ecco, è una manovra che si iscrive in una dinamica di enorme compromesso, molto complicata, ma io credo che se questo governo arriva all'anno prossimo così com'è con questa conformazione, probabilmente la manovra dell'anno prossimo sarà una manovra drasticamente diversa. Diciamo che è veramente un momento di equilibri particolari tenuti insieme col bilancino e credo che sia stato fatto diciamo molto in una situazione molto complessa, molto, volevo dire scusi, molto poco, ma in una situazione molto complessa. Castelvecchi, la manovra è pallida, oppure bisognava trovare un colpo d'ala che non c'è stato, oppure ci si è limitati a fare, anche perché poi c'è stato pochissimo tempo, perché la crisi è una crisi proprio di metà agosto e la manovra, il tempo di scrivere, il tempo di fare i conti, il tempo di trovare un accordo, sono stati pochi giorni poi alla fine. Dunque, la manovra è creativa, non lo dico in senso di disprezzo, ma lo dico in senso di novità che ha portato, perché è la prima volta che una manovra promette così tanto in termini di recupero dell'evasione fiscale, questo in effetti vuol dire... Poi è sceso da 7 a 3, eh? Noi comunque siamo andati in Europa a dire che recuperavamo tanti soldi dell'evasione fiscale, infatti i 7 erano troppi, non ci ha creduto nessuno. È molto creativa perché sono comparse delle tasse, delle nuove forme di tasse, che sono un po' all'altezza dello spirito dei tempi, cioè si parla di tassa sulla plastica, di tassa sulle bevande zuccherate, cioè sembra un po' scritta in parte... Io lo chiedo, scusi, mi viene la curiosità, è una roba, perché lei sta accreditando la tesi che sia una scelta, diciamo, filosofica, una scelta di campo contro la plastica, contro lo zuccherate, o più banalmente non servono solo a fare cassa? Servono a fare cassa. Non c'è sempre questo rischio che uno amanti una tassa di un... in belletti, diciamo, il provvedimento, una tassa contro il web, contro i giganti del web, è tutto giustissimo, figuriamoci. Ma insomma, sì, sono tutta una serie di cose, per esempio è chiaro che se io tasso i giganti del web sto strizzando un'occhiolino all'Europa, perché adesso bisogna ovviamente fare pace con l'Europa. Se tasso le bevande zuccherate sto strizzando l'occhiolino a quella parte di popolazione che vuole un, diciamo, che è favorevole al chilometro zero, alle cose, alla sostenibilità. In qualche modo se tasso la plastica faccio scrivere una parte della manovra a Greta Thunberg. Ora io sto ovviamente... Di Greta parliamo, però... Cioè sostanzialmente quello che voglio dire, è una manovra che più che essere... Faccio cassa, intanto. Faccio cassa, ma più che altro prometto molto. Ecco, la cosa... Probabilmente quello che succederà è che questa manovra serve a trovare una pacificazione con l'Europa. Poi vedremo che se verso aprile, maggio, non si riuscirà a far cassa secondo scadenze programmate, cominceranno i correttivi. Ma d'altro canto, lei chiedeva quanto dura questo governo. C'è chi dice che deve durare un anno comunque, c'è chi dice che durerà fino a dopo le nomine, quindi fino a prova contraria. Vi ricordo che se si vota presto, si vota per 630 parlamentari, deputati e 315 senatori. E a molti non dispiace, vero? Ecco, si è introdotto una variante di quadro molto interessante. Cioè questo governo nasce con un Renzi fortemente a sostegno e ancora dentro il PD che dice evitiamo la mente del Livia, eccetera, eccetera. Subito dopo Renzi fa una telefonata a Conte per dirgli, Conte stai sereno, non faccio cadere il governo. Conte che è memore. E Conte che dovrebbe ricordarsi che le telefonate, io non vorrei mai ricevere una telefonata da Renzi se fosse un premier, dice chi c'è al telefono Renzi? Non me lo passate. Detto questo, a parte la battuta, Renzi forma Italia Viva e a questo punto c'è la grossa partita delle nomine. Che cosa voglio dire? Nel momento in cui la partita delle 5-600 nomine che stiamo attenendo di rinnovi di consigli di amministrazione del fior fiore della nostra economia, CDP, ENE e quanto segue, non soddisfacesse sufficientemente gli appetiti renziani? Renzi che fa? Stacca la spina e va a elezioni? O trova comunque un modo per pesare e condizionare il quadro? Che prosaico, Casalvecchia? Io credo che la partita delle nomine sarà una delle cose che qualificheranno la durata di questo governo. L'altra è in qualche modo il quadro internazionale e l'altra... Cioè il quadro internazionale in che senso? E cioè sostanzialmente il fatto che gli Stati Uniti stessi, l'Europa stessa, a questo punto chiedono stabilità all'Italia, quindi cercheranno di fare pressione in tutti i modi su Mattarella perché Mattarella dia credibilità a questo governo e l'altro aspetto fondamentale è che posso dire, forse conviene per assurdo, perfino al centro-destra che questo governo duri perché il centro-destra deve rinsaldare le fila, c'è una Meloni, lo ha ricordato lei, c'è una Meloni in crescita, c'è una Forza Italia che deve rimanere a galla, c'è un Salvini che deve essere... E ognuno ha i suoi problemi. C'è Giorgetti e la guardia leghista che vogliono capire in qualche modo se e come affiancare Salvini perché la Lega ha una cultura del capo che è una cultura in cui il capo non si discute, però in questo momento sottovoce il capo si discute per alcuni errori che è fatto. Quindi il centro-destra deve in qualche modo riorganizzarsi perché questa trionfante vittoria che avrebbe elezioni va in qualche modo organizzata, non è che uno va e vince, va e vince e dopo gestisce il paese. Quindi una pausa di otto mesi e un anno conviene a tutti, questo è un po'... Arditti, che ne pensa? È mancato il colpo d'ala, come chiedevo anche a Castelvecchi, cioè bisognava trovare, dice Castelvecchi, che le microtasse che sono, che io dico forse servono molto a far cassa sotto una bellissima forma di editing per cercare di renderle belle e piacevoli e in qualche modo giustificabili. È mancato il colpo d'ala, cioè i quota 100 e il reddito di cittadinanza di questo governo si sono dovuti limitare a gestire il gestibile edulcorando per quanto possibile le microtasse? Si può anche mettere in questi termini, sì. Edulcorando ma senza zucchero? In qualche modo per ora il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle non sono ancora riusciti a raccontare agli italiani qual è il motivo per stare insieme e fare questo governo. Ne possono essere le parole usate in queste settimane. Vorrei dire anche questo, il governo ha fatto l'unica manovra economica che era nelle condizioni di fare, ha ammesso di chiamarla manovra economica, perché in realtà l'unica cosa che c'è è evitare l'aumento dell'IVA, promesso da tutti e quindi inevitabile realizzarlo. Il governo nasce il 16 luglio, giorno in cui Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e anche gli ormai pochi parlamentari europei di Forza Italia votano per la nuova Presidente dell'Unione Europea. L'operazione in cui arrivano i voti del Movimento 5 Stelle, no ricordiamolo perché poi noi ricordiamo tutto ma ricordiamolo a chi ci ascolta. Esatto, e figlio di quel voto del 16 luglio arriva una sequenza che io concentrerei su tre figure essenziali, il Presidente del Parlamento Europeo David Sassoli, il Commissario Italiano Paolo Gentiloni con un portafoglio importante e un Ministro dell'Economia come Roberto Gualtieri che è la quintessenza del rapporto preferenziale con Bruxelles. Tutto questo è una grande operazione politica, non di poco conto, anche perché l'Italia era finita in una posizione... Tre esponenti del PD peraltro. Tre esponenti del PD e qui Salvini ha delle responsabilità secondo me di non avere colto sino in fondo quello che accadeva intorno a lui nel 2019 perché alla fine Salvini che secondo me vincerà anche l'ultima competizione di quest'anno, cioè quella che si sta svolgendo in queste ore, però in realtà non è il vincitore dell'anno politico 2019 perché la sua... E chi è il vincitore? Intanto mi dica chi è il vincitore. Il vincitore è Bruxelles, è Bruxelles ed è la linea che si è uniformata a Bruxelles. E le faccio un altro nome, Conte, che ha fatto il Premier con il governo giallo verde, Conte secondo me è in una posizione... Mattarella, che è il kingmaker... Sul Presidente del Consiglio io dico che il ruolo di Conte era molto chiaro e politicamente molto preciso nel Conte 1, secondo me da lì in poi, cioè dall'alleanza giallorossa in poi c'è un po' meno bisogno del professor Conte di prima, quindi lui in qualche modo deve trovare un modo per ritagliarselo questo spazio perché non è detto che si riveli così consolidata la sua posizione, o se vogliamo dirlo in un altro modo, io non penso che questo... E potrebbe commettere qualche errore. E questo nella vita è capitato a tutti noi. Mettiamolo in un modo più tranchant, io non penso che questo è l'ultimo governo della legislatura. Addirittura. De Robertis, scenari che continuano a susseguirsi, questo era quello di Arditti, la manovra è sufficiente diciamo è o è, come dire, il minimo di legge che si doveva fare, perché la manovra va fatta comunque. C'erano da garantire, e lo hanno ricordato tutti perché le riallocazioni dell'IVA per ora non ci sono state, anche se poi in corso d'opera vedremo che cosa accadrà, la manovra è quello che è, 7 miliardi appena, tutti moderatamente insoddisfatti, diciamo così. Sì, credo che, come è stato detto, le clausole dell'IVA hanno assorbito il grosso della manovra, poco di più non c'era spazio e quello è stato. Si apre a questo punto una fase politica molto complessa e molto movimentata e per capire questa fase politica secondo me bisogna pensare al Palio di Siena, che è quella giostra medievale per cui la contrada di rincorsa, più che guardare a se stessa, guarda la difficoltà della nemica, tu guardi la nemica e quando la vedi in difficoltà entri e dai via la corsa. In questo momento Renzi in particolare, credo che sia la contrada di rincorsa, sta monitorando con grande attenzione le difficoltà degli altri. Credo che, anch'io sono d'accordo, il Governo non avrà vita molto lunga e in ogni caso non è l'ultimo della legislatura. Quando staccare la spina sarà deciso o da Renzi o da qualcun altro nel momento in cui vedranno le difficoltà, vedranno la contrada nemica in difficoltà per trarne il maggior profitto. Tutti sono un po' nemici a tutti, le amicizie sono molto rapide nel cambiare e quindi è difficile anche fare delle previsioni. L'unica cosa che si può dire è che ci sono una serie di, più che forze, ci sono una serie di debolezze che si stanno combinando l'una con l'altra, l'esito dell'Umbria con ogni probabilità accentuerà queste debolezze all'interno della maggioranza perché comunque Zingaretti ne esce e ne uscirà, non possiamo fare pronostici. Ci sono due possibilità, che vinca uno che vinca l'altro, se dovesse vincere il centro-destra è chiaro che nel centro-sinistra... Io le dico uno degli otto perché sono otto, va bene, però diciamo due favoriti. Diciamo così, se il centro-sinistra dovesse perdere è chiaro che le debolezze all'interno della maggioranza aumenteranno ancora di più. Senta, le posso buttare un nome lì? Le posso buttare un nome? Che farà da grande, visto che sia lei che Arditti siete d'accordo che questo non sarà l'ultimo governo della legislatura? Io le chiedo, non parlo di governi, ma le chiedo che farà da grande Mario Draghi? Mario Draghi può giocarsi tante carte, dal Quirinale e là ne può giocare tante. Bisogna capire se, non lo so, qualche anno fa il destino di Draghi sarebbe stato di una lettura più facile, secondo me, da prevedere, perché sono stati gli anni in cui i tecnici, i supertecnici, i tecnici di altissimo livello andavano per la maggiore. Ora, a quel periodo lì, non so, dopo l'esperienza Monti, mi sembra un po' passato. Quindi, al di là del profilo della persona, che è assolutamente di grandissimo spessore e tutto. Però, non so se anche di fronte a una caduta del governo Conte ci possa essere un altro governo tipo tecnico alla Monti, non mi sembra più il periodo. No, no, era così, le chiedevo. Sia per quello, sia per il Quirinale, che è una cosa assolutamente alla portata di Draghi. Mi sembra che quell'epoca lì sia un po' passata. Già, ma se rivede i 5 Stelle votare Draghi. Arditti, che ne pensa a proposito del futuro di Monti? Perché... Di Draghi. Di Draghi, sì, di Monti. Monti era l'uomo però contro le multinazionali. Da commissario europeo. Esatto, da commissario europeo. Penso che, per come è messo questo Parlamento, tendo ad escludere che Mario Draghi prenda in considerazione l'ipotesi di guidare un governo. Perché qualunque maggioranza, tra l'altro è un Parlamento che ha già dato vita a due maggioranze diversissime tra loro e quindi non credo. Mentre è indubitabile che l'autorevolezza di Mario Draghi e la sua storia farebbe di lui un Presidente della Repubblica quasi alla francese. Cioè un capo dello Stato che di fatto dirige anche le attività di governo. Mi perdoni, ma lo può votare la Lega? Lo può votare il Movimento 5 Stelle? No, glielo chiedo. Sono due domande diverse. Sì, ma... Sono due domande diverse. Secondo me, anche ascoltando le parole di Salvini negli ultimi dieci giorni, comprese quelle in campagna elettorale in Umbria, i toni di Salvini verso Bruxelles sono radicalmente cambiati. Io ho la netta sensazione che Salvini abbia compreso molto bene che avere scelto una certa linea, anche con alcuni suoi compagni di strada, intelligenti e anche utili al dibattito italiano da Bagnai a Borghi, che comunque sono persone con cui è interessante discutere perché i temi che sollevano non sono banali. Ma tutti quei discorsi, io penso, riporto l'attenzione di tutti per un momento a quando noi abbiamo passato un mese o due a discutere di mini bot, perché adesso ce lo siamo già dimenticati, ma non è passato, non sono passati 50 anni, era i mesi della tarda primavera, maggio, giugno, benissimo. Allora, avere gettato nel dibattito globale, perché non è mai un cortile ormai, si parla, no? Temi come questi. Ecco, Draghi al Quirinale, ecco, il punto però è che anche a Draghi al Quirinale, che intanto ha bisogno di una maggioranza che lo elegga a Presidente, poi deve fare i conti nel suo ruolo di superguida e anche del governo con una maggioranza parlamentare. Troppo complicato, troppo complicato. Sanzoni, lei che ne pensa? Che farà da grande? Dice chiedete a mia moglie, dice lui. Lui ha detto proprio così e in qualche modo si è smarcato insomma. È stato bravissimo. È un politico già... Non è mica detto non ci penso proprio. No, no, no. Però io sono d'accordo con l'analisi che è stata fatta sinora. Essere il Presidente del Consiglio di una maggioranza che nasce da questo Parlamento è abbastanza complicato. Non è però da escludere, d'altra parte mi pare che Giorgetti ha detto qualche cosa... L'ha detto, l'ha detto. L'ha detto Draghi. Che possa essere un personaggio che il centrodestra va a recuperare in una posizione naturalmente di grande rilievo. Potrebbe essere un buon Presidente della Repubblica. Cioè il difensore della Lira è il supertecnico della Lega? Ma allora... Una vera mutazione genetica. Però attenzione perché Draghi poi alla fine è riconsiderabile anche in una logica di critica costruttiva dell'euro. Perché Draghi è l'uomo che in qualche modo ha contrastato l'austerity tedesca con forza. Ha messo in campo una politica di quantitative easing che era assolutamente giustificata. Che ha prodotto purtroppo pochi effetti sull'economia reale. Ma perché è servita soprattutto nel nostro Paese a rimpolpare i portafogli delle banche. Ma è senz'altro vero che per l'Italia un euro un po' più svalutato, ma dobbiamo ricordarci qual era la situazione nel 2013, nel 2014, eccetera. Insomma era inevitabilmente un toccasana per l'economia. Soprattutto per l'economia meridionale, tra le altre cose. Quindi Giorgetti ha lanciato una provocazione. Io aggiungerei che se Salvini fosse stato un po' più accorto a quello che si muoveva intorno a sé subito dopo le elezioni europee, ma tutto lì come fantapolitica, avrebbe avuto il guizzo di prendere accanto a sé Berlusconi, andare da Mattarella e dire guardi Presidente il quadro politico è cambiato, il centrodestra è vera maggioranza nel Paese. Non portava anche la Meloni? Portava anche la Meloni. Berlusconi era importante per fluidificare secondo me certe interlocuzioni. E invece dopo le elezioni sono andati a votare diverso a Staduola. Esatto, e diceva facciamo Draghi. E poi è finita come è finita. Ho Piccinini e Castelvecchi nel giro per Draghi. Piccinini, che ne pensa? Carta di riserva della Repubblica, Draghi? No, no, non di riserva. Non mi sente Piccinini? Sembra di no. Forse no. Castelvecchi. Ma dunque, come diceva quello, I have a dream, io ho un sogno. Sarebbe molto bello se facciamo, diciamo, se dalla realtà dell'attuale Parlamento balcanizzato e della politica italiana passassimo a quello che dovrebbe essere un Paese realizzato, avere un Mario Draghi che improvvisamente decide di fare politica e di mettersi alla testa di un blocco di centrodestra liberale. Tra l'altro, aggiungerei, liberale e cattolico perché Mario Draghi è un servitore delle istituzioni laico, in pubblico, ma cattolico e in grado. Draghi è un cattolico, di fatto. E raccoglierebbe grandissime simpatie anche da parte del mondo cattolico perché parlo del mondo cattolico, non solo perché oggi si conclude il sinodo dei vescovi, ma perché il mondo cattolico oggi è un po' un grande personaggio sociale diffuso in cerca d'autore e Draghi sarebbe uno che mette d'accordo tante. A proposito, dice, ma la Lega voterebbe un Draghi Presidente della Repubblica? A me piacerebbe che Draghi si mettesse la testa di un centrodestra liberale e che nascesse un centrosinistra liberale, cioè che l'Italia cominciasse ad assomigliare ad un altro Paese. Ma non è così, a me piacerebbe che Draghi facesse politica. Ma sarebbe un ottimo modo di fare politica, l'ho detto adesso a Vitti, anche quello di fare il Presidente della Repubblica, ma un Presidente della Repubblica. Non dimentichiamo che se andiamo a spigolare tra le pieghe della Costituzione, il Quirinale è interpretabile come potere, non solo forte, ma fortissimo. Se ne è servito Napolitano in un certo modo e ce l'ha fatto vedere Mattarella. Anche Gianquino, basti pensare... No, no, Castelvecchini, scusi, però il centrodestra sta rilanciando il presidenzialismo. Potrebbe il centrodestra candidare un tecnico quando lanci la battaglia per il presidenzialismo? Io penso che, e lo dicevo qualche giorno fa ad amici, Draghi è sì un grande tecnico della moneta, ma Draghi ha dimostrato due cose che possono piacere molto, molto, molto anche al centrodestra, a un centrodestra un po' diciamo rivisitato in chiave Giorgetti. La prima è che un servitore dell'istituzione italiano ha tenuto testa a Jens Weidmann, il falco tedesco della BCE, Schäuble, che era un signore non per niente tenero, un signore che si chiama Holtz, ministro delle finanze e commissario europeo, commissario diciamo BCE olandese. Va bene, è stato sicuramente... Holtz, ma chiedo scusa a quell'ostriaco, Knot e quell'ostriaco, cioè un bel gruppone di falchi che non sono personalità di secondo piano. L'esercizio di Mario Draghi in BCE è stato un esercizio molto, molto, anche il suo whatever it takes. L'altra cosa che può piacere molto è il fatto che Mario Draghi è una persona che ci dobbiamo fermare, che ha dimostrato che è possibile imporre le idee e la politica sulla moneta, il suo whatever it takes, cioè qualunque cosa ci vuole, è una decisione più politica che monetaria, però ha detto che anche la politica deve fare la sua parte e la politica non l'ha fatta per l'euro. Però io lo vedo più come un grande politico della moneta che non come un grande finanziere prestato alla politica, questa è la mia visione di Draghi. Ci fermiamo qualche istante. 8 e 55, vi do qualche particolare dell'operazione militare di questa notte. Gli abitanti di Idlib raccontano le agenzie che la città nel nord-ovest della Siria, dove dovrebbe essere avvenuta l'azione, hanno sentito dopo mezzanotte rumore di elicotteri e getto. Ho sentito e visto quattro elicotteri, ma era buio e potevano essercene di più. Ha raccontato alla CNN un uomo che abita a Samada, che è a 5 chilometri da Bariscia, che è la località dove dovrebbe esserci stato il raid americano. Ho sentito in lontananza rumore di mitragliatrici, di esplosioni per circa un'ora. Non saprei dire se si trattasse di raid aerei e non so né se fossero a Bariscia, ma di certo a ovest di Samada. Quindi cominciano a chiarirsi i termini dell'operazione, che assomiglia molto al raid che portò ad Abbottabad all'uccisione di Osama Bin Laden. Io vi chiedo di mettere in onda una cosa che ci ha portato Alessandro Sanzoni. Possiamo vedere la copertina del nuovo numero di cultura e identità che esce quando Sanzoni... Il primo novembre. Eccola qui. Venerdì primo novembre. Forse riconoscete quella ragazzina di giallo. Ci spiega la copertina Sanzoni? La copertina è provocatoria. Questo è un numero interamente dedicato all'ambiente, salvo un paginone speciale dedicato ai 30 anni della caduta del muro di Berlino, che è una cosa abbastanza importante. Il nove novembre. Però ci interessava fare una riflessione monografica sulla questione ambiente. C'è Greta, evidentemente, che viene presa un po' in giro e un titolo ambientalisti da salotto. Perché viene presa in giro? Perché questo fenomeno di Greta ci pare un fenomeno costruito abbastanza in laboratorio, fa leva soprattutto nel nord Europa, dove sono abbastanza sensibili a questa questione, anche dal punto di vista politico, sull'immagine di un minore che non ci piace già come viene utilizzato, un minore che, da quello che raccontano le biografie, ha anche delle difficoltà di salute, insomma. E però viene strumentalizzato... Porbo di Asperger ha una malattia, ma è acclarata. Viene utilizzato, insomma, su un tema specifico del quadro della difesa dell'ambiente, cioè il surriscaldamento climatico. Il surriscaldamento climatico esiste, assolutamente. Però una cosa è dire che è dovuto alle mutazioni che il clima subisce, storicamente parlando, ogni 300-400 anni, come per esempio ci spiega in un'intervista a Alberto Crescenti, il professore ex rettore dell'Università d'Annunzio di Pescara, che è stato il promotore del comitato dei 500 scienziati che hanno firmato, insomma, il manifesto sinteticamente definito contro Greta, diciamo. Ci spiega appunto che il surriscaldamento climatico esiste, ma non è imputabile all'uomo. E su questo noi innestiamo una critica dell'ambientalismo di cui Greta in qualche modo è portavoce. Cioè questa idea che addirittura l'uomo sarebbe in grado di determinare il clima del pianeta. In realtà il problema ambientale nasce proprio, a nostro avviso, da una questione che potremmo definire filosofica, cioè il progressismo, l'idea che la tecnica possa costruire il migliore dei mondi possibile e quindi addirittura portarci dall'inquinamento, da un mondo industriale inquinato a un mondo invece industriale sostenibile completamente. Allora per arrivare ai soldi siete negazionisti, tra virgolette, rispetto alle tesi di Greta. Sosteniamo fondamentalmente che c'è, però non è tutto, perché noi rivendichiamo, chiudo veramente, rivendichiamo un nostro modo di intendere l'ecologia e l'ambientalismo, che si radica nella tradizione anche strapaisana, se vogliamo, e sicuramente nel nome del nostro giornale che è Cultura Identità, cioè l'ambiente inteso come perfetto connubio tra uomo, natura, paesaggio anche antropizzato evidentemente, vivere la selvatichezza in un interscambio che deve esistere, perché l'uomo è parte della natura. Ben guarditi, volevo passare da Piccinini. Piccinini, lei invece, rispetto alle battaglie di Greta, Greta che è stata, si dice, candidata al Nobel per la pace, ma comunque sicuramente è uno dei personaggi di questo 2019, che ne pensa? Io penso che sia sbagliato utilizzare Greta per attaccare quello che è un tema fondamentale, che è quello del suo riscaldamento globale. C'è? Sì. Ok, che poi sia portato avanti attraverso delle battaglie simbolicamente da Greta è solamente un elemento di narrazione, e mi sembra veramente assurdo quello di cercare di attaccare Greta come se negassimo il problema. Guardate, questa è una tecnica comunicativa basica, si porta sempre avanti con una tecnica comunicativa che spesso viene utilizzata anche nei tribunali americani. Cioè non si parla del problema ma si attacca il test semplicemente per cercare di dire il test non è credibile, quindi la cosa che dice non è credibile nello specifico. È sbagliatissimo, qua stiamo parlando di temi specifici, temi che coinvolgono la nostra quotidianità, temi che impattano sul futuro dell'umanità e li trattiamo come se tutto fosse Greta o non Greta. Ma di che messaggio facciamo passare? Di cosa stiamo parlando? Che cosa raccontiamo alle future generazioni? Le future generazioni che comunque nelle manifestazioni di Friday for Future ci chiedono delle risposte, chiedono delle risposte che sono immanenti. Noi ci troviamo davanti a un costante scioglimento dei ghiacciai, c'è stato il mondiale di sci che in questi giorni non si può tenere perché manca la neve. Ecco queste sono delle risposte concrete, dei problemi concreti, sta cambiando il clima e noi è uno dei temi del ventunesimo secolo e tutta la polemica si ruota intorno a Greta o non Greta, mi sembra oltre il riduttivo. Nessuno di noi ha fatto una polemica Greta non Greta, ho spiegato delle cose, i piccini li hanno ascoltato, mi dispiace, quando torno a Napoli gliele dico meglio. Arditti, io dico questo, io lo trovo molto interessante il personaggio di Greta e sono molto contento del fatto che sia arrivato sulla scena internazionale. Fermo restando che io personalmente condivido il 20-30% di quello che è il movimento di cui Greta è emblema sostegno. Ma sono verdi, è un ambientalismo diverso da quello di 30 anni fa. Decisamente, però mi piacciono molte cose di Greta, mi piace, intanto che è una ragazzina della sua età e che quindi manifesta un protagonismo in quella fascia di età tra i 15 e i 20 anni che secondo me è bene, visto che usa tutti gli strumenti della modernità, è bene che sia facci e per essere ancora più chiari io trovo la proposta che in Italia ha avanzato Enrico Letta, sacrosanta, di votare a 16 anni. E quindi mi piace... E in minoranza, lo sa, ha visto ieri poi? Ho visto benissimo ed è un... devo dire che il fatto di essere in minoranza in qualche modo mi conforta perché mi induce a pensare che il dovere della classe dirigente è qualche volta di sapere anche andare controcorrente. E leverebbe il voto agli anziani anche? Ma neanche per sogno. No, no, per sapere. Neanche per sogno. Approfitto per andare, volevo sapere se era controcorrente o qual era. Mi piace anche il fatto che Greta è una ragazzina che si porta dietro un suo problema di salute perché è anche questo indicatore del fatto che nel mondo di oggi riusciamo a giocare tutti o quasi tutti la partita dello stare insieme, anche chi è un po' in difficoltà per ragioni legate alla salute o ai casi della vita. Infine, mi piace il fatto che Greta, pur dicendo cose che io spesso o addirittura quasi sempre non condivido, ha una radicalità nel proporle che secondo me serve al nostro dibattito perché soprattutto a quell'età non possiamo chiedere loro di essere moderati. La moderazione è una richiesta che possiamo fare, almeno a noi che siamo qua, e noi invece abbiamo il dovere di pretendere da Greta e dai ragazzi di essere talmente poco moderati dal diventare in qualche caso anche incoscienti e dire anche delle stupidaggini, come spesso accade a questo movimento. Il mondo, Piccinini lo diceva, ma lo dicevamo un po' tutti, il mondo non va poi in modo così disastroso, però certo che la plastica nel mare c'è, è bene anche che con la radicalità di Greta vengano messi nell'agenda mondiale alcuni temi che altrimenti quelli che sono al vertice del potere potrebbero tendere ad accantonare, tutto qua. De Robertis, che ne pensa? Poi torno Piccinini per il suo contrasto con Sansoni. Ma come diceva Arditi, la cosa interessante del fenomeno Greta è questa coscienza giovanile che sembra un po' risvegliarsi da dopo. Abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni momenti in cui i giovani si erano fatti sentire in maniera forte, era un po' di tempo che non accadeva, ricordiamo il 68, il 77, il 78. Negli ultimi 20 anni non c'erano state delle grandissime prese di coscienza collettive a dei giovani, quindi questo è sicuramente un fatto positivo. Riguardo all'ambiente credo che i cambiamenti ci siano, ci siano sempre stati, questo è vero, però una cosa è un cambiamento che avviene nell'arco di qualche centinaia di anni. Qui assistiamo a cambiamenti rapidissimi, velocissimi e questo è il segno di qualcosa di diverso che è accaduto. Basta vivere ormai, al di là del clima, non è solo il clima, è l'ambiente in generale, è l'area che respiriamo. Basta vivere un po' in campagna e rendersi conto che ormai non è più possibile mangiare una mela accolta dall'albero se non gli hai dato quattro volte l'antiparassitario allo stesso melo che 50 anni fa non veniva per niente curato perché le mele venivano senza bisogno di dargli niente. Quindi insomma qualcosa di veramente importante è accaduto e sono tutte cose che poi alla fine le scontiamo nella nostra salute perché una cosa è cogliere una mela da un albero e mangiarla e non l'hai mai trattata, una cosa è prendere e mangiare la stessa mela e hai dovuto fare quattro trattamenti. Sono cose innegabili queste che le nega chi non le conosce. Quindi insomma qualcosa di importante è accaduto e bisogna prendere coscienza di questi cambiamenti. Castelvecchi. Dunque qualche giorno fa sono stato, anzi due giorni fa, sono stata l'ambasciata italiana presso la Santa Sede che nel Festival della Promazia presentava il rapporto mondiale della Banca Mondiale e si parlava di crescita e sviluppo. Lo dico perché queste narrazioni alla Greta, al fronte ambientale globale, sono delle grandi narrazioni. Noi abbiamo bisogno di grandi narrazioni. La coscienza delle persone, dei giovani, si mette in moto su queste grandi cose. Sono anche d'accordo con Arditti e con chi ha appena parlato che in qualche modo appunto questi ragazzi noi li aggrediamo perché sono bamboccioni e stanno sempre attaccati al telefonino. Se poi una volta tanto usano il telefonino e i mezzi di Facebook eccetera eccetera per scendere in piazza, tornano in qualche modo in una coscienza di impegno, dovremmo in fondo dire che non sono proprio così bamboccioni sprovveduti. Però è pur sempre vero che quando poi mi trovo a parlarne con gli studenti dell'università dico state attenti perché è benissimo che siate tornati a essere attivi e anche bene che la generazione che torna in piazza oggi non sia quella della P38 o dello Stato imperialista e multinazionali o anche i giovanissimi che tornarono dalla prima guerra mondiale. Parla di 40 anni fa ormai. Guardate, nell'arco degli ultimi 200 anni sono stati giovanissimi a portare trasformazioni anche rivoluzionari. Erano giovanissimi i reduci della prima guerra mondiale che diedero vita a dei regimi totalitari. Quindi in qualche modo sono contento che i giovani tornino in piazza per una narrazione che è calda, che ci coinvolge tutti, che parla del nostro futuro. In questa narrazione però ci sono alcune forzature. Paradossalmente torniamo a Grillo e alle considerazioni sugli anziani. Dicevano quelle banche mondiali. È vero che dobbiamo distinguere tra crescita e sviluppo. Ci può essere una grande crescita volumetrica dell'economia mondiale però non viene distribuita in maniera equanime. Però alcuni numeretti vanno messi in fila. In India la globalizzazione che tanto attacchiamo ha fatto nascere una classe media negli ultimi 20 anni di 400 milioni di persone. Anche in Gino. L'economia è cresciuta del 35%, la povertà è diminuita del 35% e anche la mortalità infantile. Il problema è che la distribuzione delle ricchezze è diseguale. C'è stata una crescita dell'economia mondiale. Il mondo in poche parole sta meglio di come stava prima. Però il problema è che andatelo a dire ai giovani cileni che oggi sono in piazza che dicono a me l'istruzione privata mi costa di più, l'assicurazione privata mi costa di più, non godo tutto sommato di questa grande festa, di questo sviluppo e allora scendo in piazza. Il personaggio di Greta a me provoca una sorta di antipatia epidermica, non so come dire, non mi piace molto la confezione del personaggio, però obiettivamente se io vivessi a Pechino, dove c'è una specie di coltrenera sopra il cielo, se avete fatto un giretto per Bangkok negli ultimi 10 anni, che è un inferno a cielo aperto di 13 milioni di persone, Città del Messico, sono Mumbai, 20 milioni di persone, ma anche l'area metropolitana del Cairo, le città che noi abbiamo creato, sono degli inferni ecologicamente parlando, quindi negare che gli esseri umani, gli esseri umani hanno sempre provocato una trasformazione climatica, la desertificazione che vediamo è stata innescata dai pastori che facevano pascolare allegramente caprette e che hanno pian piano mangiato interi pezzi di Africa negli ultimi migliaia di anni, quindi gli esseri umani hanno una grandissima responsabilità nel cambiamento climatico, bisogna solo dire a questi giovani state attenti perché rischiate un po' di buttare il bambino con l'acqua sporca dell'inquinamento, cioè rischiate di credere a delle narrazioni semplificatorie, quindi loro devono fare radicali, noi dobbiamo in qualche modo riportarli al ragionamento. Quindi viva Greta per certi versi, perché ha risvegliato, ha dato voce a un movimento agli altrimenti. Viva Greta perché costringe chi vuole fare veramente l'ecologista a dirci poi come produce l'energia per l'auto elettrica e che cosa ci mette al posto della plastica, perché se produrre le bottiglie di vetro vuol dire che io devo raschiare i bacini dei fiumi per la sabbia che serve per fare il vetro, ho creato un'altra bomba ecologica. E viva Greta anche perché costringe. Gli anti Greta, cioè sostanzialmente i conservatori che dicono no, non è vero, li costringe a trovare argomentazioni un po' più adulte. Cioè io mi ricordo che fino a un paio di anni fa Trump diceva sta storia del cambiamento climatico è una panzana. Io non credo che oggi Trump può sostenere questo. Cioè anche chi oggi è su posizioni diciamo anti Greta o anti movimento deve trovare argomentazioni un po' più adulte. Cioè come diceva un attimo Farditti, la plastica c'è in mare, non è che io posso negare l'evidenza. Allora Sanzoni Piccinini, però prima vi do due aggiornamenti sempre sulle vicende di al-Baghdadi. Intanto le forze kurdo-siriane hanno fatto sapere che c'è stata una collaborazione di intelligence con gli Stati Uniti che ha portato all'operazione contro Bagdadi. Ma l'altra notizia importante arriva da Sait, che è il sito che monitora lo jihadismo internazionale sul web. Bene, Rita Cass dice che social media e siti internet legati all'Isis per ora non confermano la morte di al-Baghdadi. Ma, e quindi questo è un ulteriore elemento che fa credere la notizia possa essere vera, esortano i seguaci di tutto il mondo a, virgolette, continuare la jihad anche se la notizia fosse vera, definendo già il loro leader come martire della guerra santa. Questa è l'affermazione. Sanzoni, per un ritorno, e poi Piccinini che... Random, diciamo che sperare che il non essere moderati possa in qualche modo nascere da un prodotto in laboratorio che in qualche modo è anche coordinato dai grandi della terra, non mi lascia ben sperare rispetto alla crescita di una coscienza civile e anche di impegno tosto da parte dei giovani, perché un impegno anche molto forte e molto duro rispetto a determinate tematiche, non dico che debba essere spontaneo, perché spontaneo completamente non lo è mai stato, però qua veramente è tutto troppo coordinato ed è qui che probabilmente si determina l'antipatia, diciamo, che suscita questo movimento. Ripeto che non va confuso l'ambientalismo, la sensibilità nei confronti dell'ambiente con Greta e con la questione del surriscaldamento climatico. Anche quando nella Londra del XVII secolo a un certo punto abbiamo la piccola glaciazione che determina poi la peste, le carestie, eccetera, avviene improvvisamente. Questo non significa sostenere che poi l'impronta ecologica dell'uomo e l'impatto evidentemente della tecnica e dell'industria moderna non siano straordinariamente forti nei confronti della natura e di quello che è il nostro ambiente. Io non riesco a capire però che cosa... È Greta? Ma no, ma Greta... Non mi piace quello che si sta costruendo attorno, che mi appare. I grettini. I grettini, esatto. Non mi piacciono i grettini. E mi sembra che tutto questo grande movimento, siccome focalizza esclusivamente sulla questione energetica e sul riscaldamento climatico e non sulla nascita di una coscienza ecologica nuova, diversa, che noi proviamo a disporre, ho l'impressione che serve a favorire una bolla. Una bolla che è una bolla finanziaria indirizzata verso le cosiddette energie alternative dopo che abbiamo avuto nel decennio scorso una bolla industriale e abbiamo visto quello che ha prodotto sul paesaggio italiano il proliferare di impianti fotovoltaici e di impianti eolici, delle pale eoliche, eccetera, senza produrre poi veramente energia in quantità sufficiente e pulita. In Italia, perché in altri paesi si produce energia dalle pale eoliche e dal... Ma semmai è il gas azzurro, il metano che possono in qualche modo essere... Le maree, un bel dibattito questo. Piccinini. Rapidamente. Beh, il tema è molto complesso. A me interessano due punti che secondo me sono quelli assolutamente giusti. Da una parte, come si consente ai paesi in via di sviluppo o quelli che sono all'alba della loro evoluzione di continuare a poter avere un livello, un tenore di vita che sia come quello dei paesi occidentali perché è inutile girarci intorno. Qui dobbiamo accettare che ci sono delle persone che hanno il diritto di avere degli standard di vita migliori. E dall'altra, come questo si concili con la sostenibilità dell'ambiente. Ma per darvi proprio una visione plastica, io ho avuto la fortuna di andare a San Diego a vedere nel dipartimento che fa i report per l'NSA americana, quindi per il governo americano, la National Security Agency, per quanto riguarda l'inquinamento globale. E c'erano due fette del mondo in cui, quando li guardavamo dal satellite in quel momento, e li mappavamo nell'ultime 24 ore, si vedeva plasticamente dove era concentrato l'inquinamento. Da una parte, nel sud della California, nella Silicon Valley, dove la necessità e la produzione di energia per far funzionare tutto quell'hub produttivo è enorme. Dall'altra parte, tutto l'Asia è il sud-est asiatico, che ovviamente si concentra la maggior parte della produzione manufatturiera del mondo. L'Europa era messa molto meglio. Quindi questo è un tema che può sollevare e deve sollevare chi già ha fatto dei grandi passi in avanti, come l'Europa, e deve inserirlo all'interno di un'agenda globale. Perché questa non è una sfida che si vince in Europa e si può perdere a Pechino. è una sfida che si vince o si perde tutti assieme. Grazie, ci fermiamo qualche istante. Torniamo tra poco e parliamo di due altri temi. Liliana Segre e il Sinodo dei Vescovi. Fra poco. 9.21 Allora, eccoci di nuovo qui. Parto da lei, De Robertis. Allora, la notizia che ogni giorno Liliana Segre, che è una sopravvissuta al campo di sterminio di Auschwitz, riceve circa 200 messaggi di odio antisemita, di odio razziale, ha fatto dire al Presidente del Consiglio Conte che vuole intervenire coinvolgendo tutte le forze politiche per battere questo sentimento che circola non solo nel web. si può fare? Perché in realtà è uno dei grandi problemi dei nostri tempi questo tipo di situazioni, cioè web, odio, assalto, attacco, violenza. Io credo che in questi casi più che il Presidente del Consiglio dovrebbe intervenire la Polizia Postale perché se no rimaniamo sempre alle parole. Le parole non servono, bisognerebbe che la Polizia Postale o chi per essa individuasse i colpevoli e avesse gli strumenti legislativi oltre che tecnici per colpire duramente perché il web non può essere la zona franca per dire qualsiasi cosa. Cioè se io prendo un cartello, vado in piazza e alzo sto cartello e scrivo quello che scrivo sulla senatrice Segre vengo perseguito. Se lo dico sul web tutto passa. In realtà in piazza mi vedono 20 persone, sul web mi vedono 20.000 persone. Quindi questo dovrebbe essere lo scatto vero che una legislazione moderna deve affrontare per risolvere la questione. Uscire dalle parole e dare gli strumenti appunto legislativi e tecnici per fare in modo che queste persone vengano assolutamente perseguite e punite in modo non esemplare, in modo giusto perché non è possibile offendere, prendere questo tipo di posizioni senza che nessuno faccia niente. Piccinini, Fanpage è uno dei siti più importanti italiani quindi lei conosce benissimo il mondo del web e dintorni. Però è uno dei problemi questa questione che riguarda a partire dai social network tutto il mondo che gravita intorno alla rete. La polizia a volte non basta però. Beh diciamo che in realtà basta l'apparato normativo che abbiamo se le persone imparano a denunciare. Denunciare veramente questi veri e propri pistacchietti dell'umanità se possiamo dire che offendono e insultano e si nascondono dietro l'odio razziale o il sessismo. Ci sono delle leggi c'è la legge sull'incitamento all'odio c'è la legge sulla diffamazione vanno semplicemente usate e applicate. Lo dico sinceramente chiunque partendo dall'onorevole Segre si senta offeso venga offeso è il momento che denunci perché la polizia postale deve fare il proprio lavoro e deve poter agire in questi momenti perché come fece Boldrini si ricorda? Esatto esattamente la stessa cosa bisogna denunciare perché bisogna che si smetta con questa sensazione di impunità non è vero si può agire si deve agire perché è veramente impossibile leggere certe cose e lo trovo assolutamente ingiusto e rispettoso nei confronti di persone come Liliana Segre a cui questo base deve tanto e in generale l'Europa deve tanto Sansoni sì io sono d'accordo sia con Piccinini sia con De Robertis la polizia postale che deve intervenire le leggi ci sono già ma i social network per dire i social network polarizzano molto cioè siamo polarizzano molto non lo conosciamo fino in fondo e non lo conosciamo bene bisogna capire anche evidentemente da dove provengono alcuni insulti noi li riceviamo quando siamo qui a tutta forza e spesso e volentieri vediamo che questi profili non sono identificabili potrebbero essere dei bot potrebbero essere coordinati ci potrebbe essere proprio una strategia insomma da questo punto di vista è un mondo da monitorare bene però si può fare qualcosa sì sì secondo me si può fare qualcosa già a leggi vigenti a normativa vigente al di là insomma dell'intervento poi della politica che dice dobbiamo perché poi se come dire se si esagera con l'intervento della politica magari facciamo delle grida manzoniane ma tendiamo anche a mettere in campo potremmo anche correre il rischio di mettere in campo elementi di neutralizzazione della come dire della libera espressione tutelata dall'articolo 21 della Costituzione allora potremmo fare sicuramente una puntata su fake news ed intorni Castelvecchi anzi sarebbe utile e importante perché aiuterebbe a capire un fenomeno che è gigantesco e che è difficilissimo da tenere presente anche perché poi qui nessuno parla di un fenomeno che lei conosce l'eco chambers cioè sulla rete per il meccanismo per il famoso algoritmo questo misterioso algoritmo tu hai una serie di esatto tu vedi una realtà che ti è vicina e quindi ti pare che il mondo sia fatta senza terrapiattisti antivaccinisti e tutte queste robe qui e ti pare che gli altri siano i matti attenzione perché poi noi pensiamo che l'eco chambers che sono appunto ognuno vede la sua bolla non abbiano conseguenze sulla realtà quindi gli insulti antisemiti ognuno vede la sua cosa eccetera eccetera in realtà se vedete come è messo il clima in Europa migliaia di attacchi antisemiti in Francia migliaia di ebrei francesi che abbandonano il territorio francese e parlano addirittura poi non lo fanno di restituire il passaporto ma comunque prendono doppio passaporto israeliano centinaia di ebrei italiani insultati ogni giorno lapidi profanate il settimanale Spiegel la scorsa settimana pubblica una stella di Davide sapete che il motto dei tedeschi è sempre stato nivider cioè mai più per la Shoah e adesso c'è un nivider con il punto interrogativo cioè siamo sicuri che non imbrocchiamo a forza di scherzare sugli insulti da insulto a insulto si crea un clima che può essere aggiungo una cosa che il terreno gli strumenti ce li ha Ross dei Carabinieri ce l'hanno i nostri servizi ce l'ha la polizia postale ce l'ha la Digos c'è un software bellissimo che è di elaborazione italiana che si chiama Cogito che è un software di analisi semantica che è in grado addirittura di intercettare le minime sfumature che è stato utilizzato anche in tanti campi dell'antiterrorismo per cui gli strumenti promesso facciamo una puntata sulle fake news gli strumenti ci sono però attenzione è una battaglia che va vinta anche sul terreno della comunicazione io sono stato uno dei pochi diciamo non ebrei a fare i corsi di comunicazione con i ragazzi della comunità ebraica qui a Roma ne ho parlato a lungo con Ruth Dureghello che è la presidente abbiamo fatto dei corsi di autodifesa verbale e li faremo di nuovo di public speaking perché? perché un conto è che un ragazzo ebreo faccia le scuole nel liceo ebraico lì diciamo sei in famiglia e sei in una specie anche tu di bolla protetta purtroppo anche protetta dalla polizia però non rischi attacchi ma i ragazzi ebrei o anche le persone libere in Italia vanno a scuole in tanti licei dove nei corridoi si sente dire ebreo come se romanista ebreo laziale ebreo ebreo è insurto ecco c'è anche bisogno di vincere questa battaglia sul terreno della comunicazione le centinaia di insulti che riceve la Segre perché non sono controbilanciate da campagne di comunicazione altrettanto efficienti io devo reprimere militarmente ma devo anche combattere una battaglia comunicativa e non per niente in tutto il mondo è attiva una anti defamation league una lega anti diffamazione quindi c'è bisogno che questa battaglia del congresso mondiale ebraico c'è bisogno che questa battaglia venga vinta anche sul terreno della comunicazione non solo di portare solidarietà quando poi una persona quando accadono questi fatti è certo Arditi insomma viviamo tempi in cui c'è una grande ripresa delle tematiche identitarie e questa grande ripresa delle tematiche identitarie porta con sé fenomeni di fatica a gestire la diversità insieme a questo però la nostra società si sta anche laicizzando e sta crescendo in tutto il mondo per esempio vorrei anche dire perché io credo che abbiamo il dovere per esempio a noi di non essere poi così sempre negativi per esempio i movimenti di emancipazione femminile nel mondo arabo hanno fatto progressi straordinari negli ultimi anni adesso sembrerà una stupidaggine ma non lo è in Arabia Saudita le donne allo stadio le donne che guidano le donne allo stadio in Iran almeno per le partite della nazionale e in una parte dello stadio diversa da quella degli uomini però tra questo e niente meglio questo aggiungine un altro in Arabia Saudita le donne guidano le automobili mentre a noi sembra normale a noi sembra normale ma sono conquiste cito un episodio secondo me estremamente significativo fino a poco tempo fa nel fine settimana moltissime famiglie saudite quelle che se lo potevano permettere anche grazie al ponte fisico costruito con il Bahrain andavano nel fine settimana in Bahrain dove le donne in Bahrain le donne possono guidare guidavano l'automobile nel weekend in Bahrain perché nella loro nazione non lo potevano fare allora che voglio dire per non farla troppo lunga questi temi sono rilevantissimi l'antisemitismo è che ci piaccia o no un pezzo della nostra dimensione storico culturale economica alla quale anche un po' di cultura cattolica ha contribuito perché se no ci pieghiamo tutto in giro questa diversità delle comunità ebraiche nel cuore dell'Europa ha avuto molti nemici potenti nel corso dei secoli non dobbiamo abbassare la guardia una testimonianza anche in Parlamento come quella di Liliana Segre è di straordinaria forza morale dobbiamo tenere alta la guardia dobbiamo anche sapere che tutto questo è dentro di noi nella storia dell'umanità le differenze sono sempre state difficili da gestire credo anche io che le autorità debbano vigilare direi che nel complesso vedo però un mondo che non va tutto al disastro perché stiamo anche imparando in tanti modi a convivere penso per esempio al fatto che nella convivenza con i diversi orientamenti sessuali il mondo europeo nordamericano ma in generale sta cominciando ha fatto passi avanti importanti negli ultimi anni quindi insomma vediamola un po' tutta questa vicenda dopodiché l'antisemitismo c'è c'era e ci sarà ma non solo l'antisemitismo appunto però c'è stata la settimana scorsa un attacco ad una sinagoga in due settimane fatta con una sinagoga in Germania quindi come dire che un certo clima diffuso con una certa destra oltransista poi provoca episodi violenti quante chiese in giro per il mondo nello stesso senso che dici tu quante chiese in giro per il mondo sono oggetti di attacchi di gruppi musulmani allora riprendo dalle chiese Arditti abbiamo nove minuti quindi dobbiamo essere veloci e bravi il sinodo per l'amazzonia ieri ha chiesto al papa una cosa che è rivoluzionaria per la chiesa perché arriva dalla gerarchia dei vescovi quindi non esattamente da fuori del mondo della chiesa l'idea è che i diaconi sposati possano diventare sacerdoti per ora questo non è possibile attenzione la cosa è più circoscritta diaconi sposati in zone dove ci sono difficoltà questa è la spiegazione ufficiale esatto dove ci sono difficoltà per il sacerdote Santa Romana Chiesa è la rivoluzione perché poi il papa ma Santa Romana Chiesa nella sua millenaria saggezza è ancora qui tra noi dopo duemila anni perché ha saputo adattarsi alla storia ha processato Galileo Galilei quando era convinta che lo si potesse fare e poi però a un certo punto il papa ha detto molto tempo dopo per la verità che Galileo aveva ragione la capacità di adattamento della chiesa cattolica è uno dei suoi punti di forza e secondo me con un papa controverso ma anche molto moderno un papa controverso ma anche come papa Francesco la chiesa si sta rendendo conto che un pezzo della sua diciamo così struttura portante non regge l'impatto con la modernità e io sono convinto che la chiesa troverà un modo di adattarsi una battuta finale non mi sorprende affatto che queste grandi novità nella vita della chiesa vengano da un gesuita anzi e vi cito l'intervista della stampa di oggi Marinella Perroni fondatrice del coordinamento delle teologhe italiane dice i tempi della chiesa sono lenti mentre il mondo corre più veloce in Brasile sta correndo velocissimo Piccinini che ne pensa è la rivoluzione per la chiesa e il papa dovrà seguire i suoi vescovi io quando ho letto ieri sera la notizia la prima cosa che mi è venuta in mente è stato proprio il sistema del welfare cioè nel senso la chiesa così rischia di diventare ricordiamoci che i preti comunque hanno uno stipendio seppur minimo rischia di diventare una carriera per certi aspetti ovvero ci sono delle persone che soprattutto nelle zone a bassa vocazione di cui l'Europa è uno dei continenti e non dimentichiamolo per quella ecclesiastica potrebbe quasi diventare una carriera professionale non lo so l'ho letta un po' così è una cosa che succede già nelle culture anglosassoni e mi ha lasciato un po' perplesso devo dire la verità da persona che non è anzi ha una massima apertura verso questa cosa Castelvecchi ah no passo a Sanzoni 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 prima perché aveva delle cose da dire sì io non credo che si debba anche Castelvecchi c'era Castelvecchi non credo che sia da classificare la specifica questione del celibato ecclesiastico non credo che sia da classificare nelle categorie di modernità passatismo tradizione progresso nell'ambito della chiesa perché qui spesso dimentichiamo che nel medioevo e nel rinascimento quindi tanti tanti secoli fa il celibato ecclesiastico non c'era i coloro che dovevano mantenere una castità assoluta erano i monaci e non i sacerdoti tant'è vero che c'era una precisa differenza delle due funzioni più teorica che pratica beh insomma nel rinascimento era una differenza abbastanza robusta poi però che cosa è accaduto che c'è stato un fatto storico che è il protestantesimo Martin Lutero con questa critica proprio alla chiesa per la sua libertinità per certi aspetti che ha dovuto poi rispondere non solo sulla parte riguardata anche altre cose che però hanno prodotto il rinascimento Berlini l'arte eccetera va bene però quello che voglio dire è quindi dal concilio di Trento che viene fuori il celibato ecclesiastico che non è dogma di fede che non è dogma di fede ora il punto qual è e perché poi per Goglio è un papa controverso perché una cosa è riprendere nella tradizione del cattolicesimo no del cristianesimo del cattolicesimo questo elemento come dire che permette di ovviare a delle problematiche poi specifiche territoriali inerenti il celibato ecclesiastico altra cosa però c'è un problema pratico lì i preti sono lì i sacerdoti sono possiamo dirlo sposati io sono assolutamente d'accordo però se non si vuole come si diceva prima che la chiesa diventi come dire un semplicemente assistenziale e quindi diventi una professione di fare il prete poi per Goglio deve recuperare altri elementi che sono il rito la liturgia il senso del sacro che da un po' di tempo a questa parte viene troppo sminuzzato cioè nel momento in cui noi abbiamo un rito in latino è più facile concepire anche per come dire la parte più tradizionalista della chiesa cattolica un sacerdote che si sposa nonostante 400 anni che ci separano credo che Castelvecchi vedo torno Arditti Castelvecchi l'ho vista perplesso sul rito in latino no sul rito nel senso che la lingua della Santa Sede naturalmente è l'italiano io adesso finita questa trasmissione andò tra l'altro alla messa di chiusura del sinodo che viene truata il Santo Padre in Vaticano ma quando il Santo Padre tiene messa in Vaticano la tiene in latino ritualmente e poi predica in italiano cioè il latino ha ancora cittadinanza nella liturgia ed è anche molto bello da vedere non solo come colpe di colore ma anche come capacità di gestire la coreografia liturgica allora io ho letto l'instrumentum laboris spieghiamo cos'è l'instrumentum laboris è il documento di preparazione che c'era già da alcuni mesi del sinodo presentato poi in conferenza stampa dal cardinale Baldisseri che è il segretario generale del sinodo dei vescovi questo instrumentum laboris segna la vittoria di Papa Francesco su tanti fronti nel senso che basta leggere per vedere che c'è sostanzialmente una chiesa di dimenticati una chiesa globalizzata una chiesa che è qui però il vero contrasto attenzione che dalla porta piccola di questa ammissione allora riguarda l'Amazzonia teoricamente si parte dall'Amazzonia il grido dell'Amazzonia e anche con molte dichiarazioni interi paragrafi che sembrano scritti ora lo dico ironicamente da Greta Thunberg cioè dal continente che ha oggi la maggior numero di cattolici al mondo minaccia ecco i cattolici al mondo allora attenzione che nelle chiese orientali cattoliche già ci si sposa ma il tema grosso su cui c'è stata anche molta polemica è quello della inculturazione cioè sostanzialmente il rito va salvato ma quando io celebro un rito in Amazzonia in Africa eccetera eccetera devo celebrare la ritualità sposando in qualche modo in maniera interculturale le culture locali e questo è quello che dice la componente gesuitica quindi faccio sostanzialmente una messa nigeriana che in parte sembra un rito africano faccio una messa amazzonica con le livree degli indios amazzonici o devo imporre in qualche modo una ritualità globale uguale per tutti scusa in Sud America e Africa è già così un attimo anche De Robertis esattamente quindi il tema è devo incoraggiare questa cosa che come dice Papa Francesco o devo quindi in questo momento questo sinodo segnala un po' la vittoria del C9 cioè di quella guardia pretoriana di cardinali che con Maradiaga con O'Malley con Grascia sto parlando i nove cardinali che consiglia Francesco sta imponendo questo nuovo corso ma non è detto che lei mi stupisce è un vaticanista posso dire prego De Robertis no niente voglio intervenire su questo tema è chiaro che il sacerdozio il celibato sacerdotale non è un dogma fu introdotto dal concilio lateranense nel 1130 erotti però è chiaramente un segno un elemento della modernità sul quale il Papa sta richiamando l'attenzione come quello del ruolo della donna nella chiesa però secondo me il rischio del Papa e probabilmente anche l'errore è di poter pensare di imporre questi temi alla chiesa sono temi così fondamentali così importanti come gli altri che ha imposto Bergoglio la comunione ai divorziati c'è il tema del confronto della chiesa con la modernità che un gesuita sente perché come diceva giustamente Arditi il Papa è un gesuita in questo è un gesuita cioè un Papa di frontiere un Papa che sperimenta un Papa che va a toccare terreni nuovi come hanno sempre fatto i gesuiti ecco se il Papa vuole tenere insieme la chiesa e il primo dovere di un Papa è sempre tenere salvaguardare l'unità della chiesa ci sono temi così importanti che non possono essere decisi non solo dal sinodo dell'amazzonia ma nemmeno dal Papa stesso cioè serve un concilio secondo me serve un nuovo concilio questo è il tema perché il Papa sta imponendo delle svolte alla chiesa molto più importanti o al pari di quelle che ha fatto il concilio Vaticano II se vuoi se tu Papa ti poni il tema di portare la chiesa nella modernità non puoi fare e vuoi conservare l'unità della chiesa non può essere il Papa a farlo deve essere solo un concilio perché la chiesa può deve confrontarsi con la modernità ma deve andarci tutta insieme perché altrimenti si creano poi delle fratture che la storia ha insegnato essere insanabili quindi il Papa mi devo fermare De Robertis però insomma l'importante è che sia tutto insieme serve un nuovo concilio mi devo fermare De Robertis vi ringrazio abbiamo parlato veramente come omnibus oggi un po' di tutto vi ricordo alle 13.30 alla prossima edizione del telegiornale alle 23 lo speciale con Enrico Mentana per seguire i risultati dell'Umbria grazie omnibus torna domani arrivederci a presto a presto a presto